Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha criticato i piani annunciati dall'esercito per sospendere le ostilità lungo una delle principali strade di accesso a Gaza e così facilitare la consegna degli aiuti umanitari. Le forze di difesa israeliane hanno detto che le cosiddette pause tattiche riguarderanno l'area di Rafah e avranno luogo ogni giorno dalle 8 del mattino alle 19 fino a nuovo ordine. Per 11 ore i camion umanitari avranno modo di raggiungere il valico israeliano di Kerem Shalom e di viaggiare in sicurezza per consegnare dei fornimenti. Netanyahu ha chiarito al suo segretario militare che per lui le pause sono inaccettabili. Le hanno fatto eco diversi ministri del suo esecutivo. Questo è l'ultimo di una serie di scontri tra i membri della coalizione di Netanyahu e i militari sulle modalità di conduzione della guerra. Una settimana fa si è dimesso dal governo e dal gabinetto di guerra l'ex capo dell'esercito israeliano e principale leader di opposizione Banigans, affermando che il premier non ha una strategia efficace a Gaza e anche i normali cittadini continuano a protestare ogni fine settimana. I manifestanti accusano il governo di non fare abbastanza per il rilascio degli ostaggi e chiedono a Netanyahu di indire nuove elezioni e di mettersi. Nel frattempo, domenica, almeno nove persone, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi in un attacco israeliano al campo di Burej, nel centro di Gaza. L'attacco aereo è avvenuto mentre i musulmani iniziavano a celebrare l'importante festività di Eid al-Adha.